Roma è blindata per le feste, fortemente potenziati controlli antiterrorismo soprattutto nei luoghi della cristianità, in attesa della Messa della Vigilia che sarà celebrata dal Pontefice alle 21.30 nella Basilica Vaticana. 2000 agenti stanno monitorando i punti sensibili della capitale, gli accessi a Piazza San Pietro sono controllati con Metal Detector, altri 400 siti turistici insieme ai mercatini e alle vie dello shopping sono sotto speciale sorveglianza. Nell'ambito dell'operazione Natale Sicuro i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato 110 persone, intensificati controlli negli scali aeroportuali e ferroviari e alle fermate della metro. L'allerta è al secondo livello, rischio medio in tutta Italia dopo l'attentato di Strasburgo. Altri 500 agenti della Polizia Municipale sono mobilitati per facilitare la circolazione ed evitare gli ingorghi.